Dacci la definizione, chi è, che cos'è una baciatrice di rospi? Allora, per rispondere a questa domanda possiamo pensare alle fiabe, dove la principessa bacia un rospo e cosa succede? E arriva il principe azzurro? E arriva il principe azzurro, esattamente, solo che nella realtà purtroppo non funziona sempre così, per cui queste donne scelgono appositamente, perché lo scelgono appositamente, un rospo che è una persona emotivamente distante, anaffettiva, che magari le maltratta anche, per dirla un po' in gergo, il bastardo, tanto per capirci meglio. Che ha sempre il suo fascino, no? Che ha sempre il suo fascino, però la baciatrice di rospi pensa di poterlo trasformare in un principe, ma in realtà questo non accade, perché in realtà la parte eccitante è proprio quella di pensare di trasformarlo in un principe, ma questo è un obiettivo quasi irraggiungibile. Quindi il rospo, che nelle favole è proprio brutto, verde, gracchianti, in realtà non è riferito alla bruttezza della persona, assolutamente no. quanto a una persona che si direbbe sbagliata, non è l'uomo per te. Una persona sbagliata, sì, che poi tra l'altro di cui si accorgono tutti coloro che stanno attorno a questa donna, che è una persona sbagliata, per cui si chiedono anche, ma che cosa ci sta a fare con questo? Perché continua a stare con questa persona che la tratta così male? E perché la missione di questa donna, che è una dipendente affettiva, perché dipende dalla relazione, è quella di trasformare quest'uomo e di renderlo migliore. Noi abbiamo ospitato anche dei gruppi di autoaiuto, di dipendenze affettive, e devo dire che non c'è assolutamente da scherzare. Si tratta veramente di una sindrome, quella della baciatrice di Rospi? Assolutamente sì. Adesso noi inizialmente ci abbiamo un po' scherzato su, ma in realtà... Ma non c'è da scherzarci, eh? Assolutamente no. Anzi, possiamo dire che è assolutamente paragonabile a una dipendenza, ad esempio, alla dipendenza d'alcolismo. Ha lo stesso decorso, nel senso che in tutti e due i casi, dipendenza d'alcolismo e dipendenza affettiva, c'è la negazione del fatto, cioè l'alcolista nega di essere dipendente dall'alcol, e la baciatrice di Rospi nega di avere un problema con la relazione. Tutti e due si allontanano dalla rete sociale. L'alcolista, ovviamente, soggetto al giudizio anche degli altri, si isola, così come lo fa la dipendente affettiva, nel senso che sente comunque che gli altri hanno da ridire su questa relazione, che trovano qualcosa che non va, che magari la consigliano e quindi si allontana. E taglia decisamente tutti i ponti. I famosi consigli non richiesti, no? Tutti ti danno i consigli e dall'altra parte uno si arrocca. È una specificità femminile o esistono anche i baciatori di Rospe? Allora, è sicuramente più femminile perché, ecco, qui magari è il caso di fare un passo indietro, perché si diventa baciatrice di Rospi? È una bella domanda. È una bella domanda. Dobbiamo andare indietro nel tempo, nell'infanzia di questa baciatrice di Rospi, perché nella maggior parte dei casi è stata una bambina responsabilizzata troppo in fretta. Ad esempio, una figlia di un genitore molto malato, che ha dovuto accudire precocemente, oppure figlia di genitori separati, per cui ha dovuto riempire il vuoto del partner assente, essendo una confidente magari per la madre o per il padre. oppure in caso di genitori assenti per lavoro si è dovuta occupare precocemente dei fratelli. Quindi una bambina che ha dovuto mettere da parte i suoi bisogni, i suoi bisogni affettivi, perché c'erano delle altre priorità. Per dedicarsi sempre ad altri. Per dedicarsi ad altri. E quindi da adulta cosa fa? Cerca di rivivere la storia del passato, cercando di dare un lieto fine. Quindi speriamo che questa volta qualcuno mi ami per quello che faccio per lui.